L'omicida non gli ha dato scampo. Morte e bellezza riunite. Negli splendidi paesaggi francesi può capitare di imbattersi in oscuri delitti. Sa chi poteva volerlo morto? Legati a leggende del passato. In ogni caso due omicidi in cinque giorni sono troppi. Per il ciclo Un luogo, un delitto. Legato con una cima d'ormeggio. Delitto sul lago. Lunedì alle 21. Top Crime. Un luogo, un luogo, un luogo.